Presidente come di una bella coppa sbrilluccicante per i maghi vinta la sacra della porcotta a Kimble questo è un problema importante che roba è imbaracelo un po' il microfono è importante è importante e no visto che mi ha confermato la regione fino al 2024 allora ho pensato di fare un corso di abruzzese accelerato e sovente lo preme poste e il professore mi ha detto che per essere un romano insomma ha una bella stessa e una bella andè perciò sovente lo preme poste dopo si vende un po' che sanno ma li vengono a spartare anche il secondo perché pure se siete bravi diciamo è stato in gamba dopo prima, seconda e terza tutto quindi ci date sette chili di indire in attaccato con lo spagotto ce lo potete fare lo succo ce lo potete fare in bianco come ci pare insomma Sindy, il giro d'Italia che parte dall'Abruzzo ne vogliamo parlare? Ma ci siamo forti e gentili ma la pazienza no la gente ci sta sorrita sai quante volte mi sono angolata? Ma il giro d'Italia in Abruzzo è la gioia di tutti gli automobilisti eh già abita a praticare queste affarre transenne a farrucciare già io sono detto scusa ma quando vi ricapita a voi eh di vedere tutti questi biciclisti eh tutto quindi affilite qua fuori ha mai detto una preside e questa è la volta buona che chiappa la macchina e me le mette sotto tutto quindi cos'è risolviamo lo problema dello traffico in Abruzzo se te fa una cosa dammi un numero telefono che tu tu puoi farti la regione a a a a